Ben trovati. Questo video è una presentazione del podcast di didasco che abbiamo chiamato Radio Design, che è un podcast didattico che utilizzo nella mia attività di insegnante, dove vengono pubblicate trasmissioni audio oppure video inerenti agli ambiti della mia attività di insegnante. Attualmente sono pubblicati audio e video relativi ai temi dell'urbanistica, della progettazione, delle costruzioni, del CAD, del disegno CAD e della didattica in generale. Sono dei video che sono realizzati o in prima persona da me o in alcuni casi, soprattutto le trasmissioni audio, sono realizzate dai ragazzi nell'ambito delle loro attività didattiche, quindi principalmente come il risultato di lavori di ricerca svolti durante l'anno scolastico. Il podcast Radio Design, per abbonarsi, ci sono vari modi. Il modo probabilmente più elegante è quello di abbonarsi tramite iTunes. Basta accedere all'iTunes Store e nel box di ricerca digitare Radio Design oppure Gustavo Caprioli, che è il mio nome, effettuando la ricerca vedrete che normalmente il primo risultato che avverrà è proprio quello di Radio Design. Attualmente sono presenti due podcast denominati Radio Design, uno con il divieto d'accesso che sta a indicare che questo è un feed che verrà presto dismesso, per cui per abbonarsi è necessario utilizzare il Radio Design normale, cliccando sopra il tasto abbonati, ecco qui troveremo alcune informazioni. È facilmente riconoscibile anche dall'immagine del podcast che è un particolare della ringhiera di accesso alla Casalina, che è un'opera realizzata da Mario Ridolfi, uno dei più grandi architetti del Novecento, a marmore vicino Terni. L'altro modo per accedere alle trasmissioni, per abbonarsi al podcast di Radio Design, sono fruibili direttamente dal sito www.edidasco.org. Nel sito www.edidasco.org si può accedere ad alcune pagine esplicative su come ascoltare la trasmissione, di cui adesso parleremo, e direttamente anche all'archivio di tutte le puntate attualmente registrate. Ad oggi, siamo al 10 ottobre del 2012, sono 28 le puntate registrate. Dalla home page del sito Tio di Dasco, sono presenti alcuni pulsanti che permettono l'abbonamento immediato. Il primo pulsante è per abbonarsi tramite iTunes, come abbiamo fatto prima, senza bisogno di effettuare ricerche, basta cliccare su questo pulsante e verrete direttamente rindirizzati alla pagina che permette l'abbonamento tramite iTunes. L'altra opzione è quella tramite il feed RSS, cioè cliccando su questo secondo pulsante, è possibile, in base anche al lettore di feed RSS preinstallato nel proprio computer, di abbonarsi con questo metodo un tantino più, un pochino più tradizionale. Ecco, questi sono i vari modi, io vi invito ad abbonarvi a questo podcast, a lasciare i vostri commenti e a usufruire di questi lavori che anche i ragazzi svolgono durante l'anno. Grazie a tutti per l'attenzione.